C'è una luna opposta, bisognerà farci i conti con questa luna così difficile che transita in un settore del cielo che ha a che fare con il matrimonio. Cosa sta accadendo nella coppia? C'è qualche problema che voi vi trascinate forse da troppo tempo? Ricordo che c'è anche un Marte che transita nel segno del Sagittario e ha alle vostre spalle. Tende ad insinuare dei dubbi, tende a mettere in evidenza quello che non funziona, quello che non riesce a rendervi felici, un pizzico di insoddisfazione potrebbe caratterizzare questa giornata. Però voi avete in questo momento l'occasione di staccarvi un attimo dalla sfera familiare e sentimentale per dedicarvi al lavoro, il lavoro sì che invece può darvi grandi soddisfazioni. Grazie a questo mercurio bellissimo.